Foreste e turismi, sarà questo il filo conduttore della seconda edizione dell'anno forestale che verrà inaugurato lunedì a Nuoro con una serie di convegni, workshop e mostre che porranno l'accento sulla valorizzazione del patrimonio forestale, sulla sua tutela e sugli sbocchi che può avere sotto il profilo turistico. Il programma di manifestazione che vedrà insieme Regione, Agenzia Forestas, Corpo Forestale, Università di Nuoro e Camera di Commercio è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa, qui sono intervenuti Salvatore Mele, direttore del Servizio Territoriale di Nuoro dell'Agenzia Forestas e Fabrizio Muredu, commissario del Consorzio Universitario della Sardegna Centrale. La cerimonia di inaugurazione dell'anno forestale sarà ospitata nella Camera di Commercio e vedrà l'intervento del Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau e degli assessori all'ambiente Donatella Spano e al turismo Barbara Argiolas, tanti partner istituzionali che hanno dato un contributo all'iniziativa. Il Servizio Territoriale di Nuoro dell'Agenzia Forestas nella propria sede ha approntato una mostra che comprende la riproduzione dell'ovile con supinetto della carbonaia e del recinto tradizionale, realizzati dalle maestranze specializzate nel cantiere di Dorgali e di Tonara, su input del Direttore Mele che ha sottolineato l'importanza della collaborazione con gli altri enti e organizzatori per la riuscita dell'iniziativa. La mostra resterà aperta una settimana e sarà visitata dagli studenti delle scuole elementari e medie, tantissimi interventi dei rappresentanti del mondo accademico ed economico per tracciare un percorso che promuova la valorizzazione del patrimonio boschivo della Sardegna, ai primi posti in Europa e ai flussi turistici. In questo senso, ha rilevato il commissario Mureddu, una particolare attenzione sarà riservata dall'Uninuoro con due workshop sia alla nuova rete sentieristica con un focus sulla normativa recentemente introdotta sia sulla professione di guida turistica e ambientale. Inoltre Sardegna Ricerche e Aspal presenteranno il progetto ViviMed con la partecipazione di imprese e soggetti pubblici e privati che si occupano di turismo e ambiente con un accento particolare all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.